per tutti i possessori della 3008 un altro metodo per vedere youtube sul proprio schermo dell'auto scaricate sul vostro telefono prima fermata auto poi scaricherete a a a d poi collegate il vostro telefono alla porta usb andate in app android auto andate praticamente pigiando questo bottone fermata auto si apre tutta una serie di cartelle potete aggiungere anche qualche playlist personale state qui youtube e avrete il vostro youtube sul vostro schermo della peggio ecco qui buona visione a tutti